Arriva un pacco destinato a Nathan, contenente un kit di 100 preservativi, cosa gli dici? Bravo amore, usali, mi raccomando, non tenerli solo in borsa, non voglio diventare nonna, è troppo presto. E oggi a mamma dilettante abbiamo l'ospite perfetta, perché lei è mamma da 14 anni, ha avuto un matrimonio da favola, incredibile, e soprattutto è una grande conduttrice televisiva, Elisabetta Gregoracci. Ma grazie, che bella presentazione, ciao Dile, come va? Bene, l'ho studiata a memoria questa, stavo sudando per dirla tutta perfetta. Tutto nel fiato, è bella, grazie. Anche perché noi già stavamo parlando praticamente prima che... In realtà noi abbiamo già registrato la puntata, allora. Abbiamo già registrato la puntata, infatti avevo tantissime domande da farti, però adesso vorrei partire proprio da questa, perché tu in un momento di panico, di pericolo, hai reagito in un modo da leonessa, cioè da mamma vera, e io ti ho detto invece a me quando è successa una cosa in cui mi sono spaventata, mi sono bloccata. Cioè tu da vera esperta di karate ti sei lanciata sul ladro per raccontare il fatto. Non so se è stata perché sono un'esperta di karate o se sono stata matta in quel momento, o se vediamo troppi film, anche quello aiuta. Però ho avuto una situazione particolare, diciamo che sono riuscita a gestirla, poi ora dico nel miglior dei modi. Fortunatamente è andata tutto bene, sono stata coraggiosa, intraprendente, ho fatto delle cose che neanche io mi aspettavo di fare. Perché c'era un ladro che stava entrando? Loro cantiamo, sì, c'era un ladro che stava entrando in casa di Flavio, che in quel momento c'era il gate aperto, il cancello, un po' di gente che lavorava in giardino. Questa persona sale su in casa, nessuno lo vede. Destino ha voluto che io fossi lì perché Nathan quel giorno è stato poco bene, quindi sono andata a prenderlo prima da scuola, e siamo passati a prendere delle cose che aveva lasciato a casa di Flavio. Sento la tata urlare, corro da lei in maniera particolare, che ho detto è successo qualcosa, e vedo questo ladro con tutte le cose che stava andando via. Io mi fiondo addosso al ladro, gli faccio di tutto, il ladro comincia a scappare, io non so per quale motivo, prendo il telefonino, comincio a filmare il ladro, mentre lo insulto gli dico qualsiasi cosa, lo spavento a voce alta. Nathan chiama la polizia, è stato brevissimo perché in pochi secondi ha chiamato la polizia, io inseguo il ladro, cerco di portargli via tutto e vicino casa c'è una strada che poi si chiude in un angolo, e sono riuscito a fargli fare quel percorso finché l'ho bloccato. È arrivata la polizia e il ladro è ancora in carcere. No, ti dico questo racconto, ci teniamo che tu lo facessi per due motivi, innanzitutto perché, insomma, attenzione Elisabetta Gregoracci ragazzi, perché è pericolosissima, cioè in un momento di pericolo mi sono bloccata, quando mi ricordo mi è successa una cosa del genere. E la seconda cosa, ed è la domanda che ti volevo fare, è se secondo te questo è anche quello spirito di protezione da Leonessa, no? Che ti viene verso tuo figlio. Assolutamente sì, perché io comunque ho sentito che non era in protezione Nathan, che poteva succedere qualcosa di non bello, e quindi ho reagito anche di istinto, capito? Istinto materno che poi è bellissimo, e quindi mi sono sentita di fare questa cosa. Eh no, è stata... È stato bello. Oggi lo posso raccontare col sorriso, quindi va benissimo. Però è una cosa che, insomma, che penso che ognuno di noi ha voglia di proteggere la propria famiglia, il proprio figlio, e quindi siamo Leonessa in questo, no? Non fate incazzare Elisabetta Gregoracci, questa è una piccola parentesi prima di iniziare la nostra chiacchierata. Perché dovete sapere che quando io ho chiamato Eli, che intanto sono troppo contenta, Eli, che tu sia qui, che abbia accettato questo invito, ti ho invitato insieme a Flavio. Esatto. Perché mi piaceva proprio l'idea di raccontare questo vostro rapporto stupendo. Molto bello. Esatto, molto bello che avete. Cioè è bello normalizzare anche una separazione, insomma, vivere bene anche questa fase. Come avete fatto? Esatto, non è facile, no? C'è un insieme di equilibri che si devono incastrare, incastonare. Noi siamo stati insieme 13 anni da questa relazione, è nato nostro figlio Nathan, che lo salutiamo, che è per noi la cosa più importante. Quindi da lì siamo partiti. Quando la nostra storia è terminata, è terminata la nostra storia d'amore, ma non tutto quello che abbiamo costruito attorno a noi. E quindi piano piano, perché questo arriva non dopo il primo giorno, ovviamente. Però grazie a Dio siamo due persone intelligenti, abbiamo messo da parte l'orgoglio, i problemi, tutto quello che in quel momento potessero dar fastidio e ci siamo concentrati su Nathan e sulla nostra famiglia. E noi siamo rimasti sempre una famiglia. Tu pensa che io e Flavio viviamo a 500 metri di distanza e la sera, ti dico la verità, molte volte ci andiamo sempre insieme, anche quando non c'è Nathan. Quindi abbiamo proprio costruito questo bellissimo rapporto. Poi lui, insomma, poco tempo fa non è stato bene, io sono stata accanto a lui. Non so come dire, per me è una cosa molto bella e naturale. Rimane comunque la mia famiglia, una persona che comunque è nella mia vita da oltre 20 anni. E questo è molto bello perché Nathan è comunque un bambino sereno. Infatti a lui come l'avete detto? Io l'ho detto in maniera molto normale. Secondo me bisogna dire, poi mi sono confrontata anche con una psicologa, però bisogna dire la verità ai bambini. E ho detto che comunque i genitori, insomma, si separavano, ma nulla cambiava a lui perché comunque rimaniamo sempre una famiglia e l'affetto che abbiamo, che ha mamma e papà, comunque rimane. Quindi lui mi dice, ma state sempre insieme? In effetti ho un po' ragione. Passiamo molto tempo insieme, però questo ha fatto sì che tutto continuasse in maniera comunque quasi naturale. Sì, c'è un progetto più grande, diciamo, al di là poi del fatto che uno stia insieme o uno stia più insieme, che è il vostro figlio e che è Nathan. Esatto. Abbiamo sempre pensato a lui. Io odio, no? Quando ti presenti la prima volta all'avvocato, gli avvocati giustamente ti dicono, allora il mercoledì è del papà, il weekend è questo del papà, il weekend dopo lo prende la mamma. E dico, guarda, io queste cose non le voglio fare. Mio figlio sta con me, col papà, sta con tutti e due. Ci vediamo tutti i giorni. Poi noi siamo due genitori che comunque viaggiamo tantissimo. Quando manca la mamma c'è il papà, quando manca il papà c'è la mamma. E in realtà non è cambiato nulla. Quindi Nathan non ha subito dei traumi. Penso sia un bellissimo messaggio per chi ci segue da casa. Sì, è bellissimo. Infatti io sono contenta anche che Flavio avrebbe voluto partecipare. E poi non è stato bene, insomma, l'avete letto tutti. Spero che adesso sia meglio. Adesso sta bene, grazie. E lui subito ci ha tenuto a ringraziare te, subito. Cioè la prima che ha ringraziato, oltre i medici, oltre Nathan, sei stata tu. Ma sai, sono stata accanto a lui notte e giorno io. Mi sono fatta anche due giorni di terapia intensiva. Sì. E sicuramente non è così scontato, no? Che un'ex moglie sia così presente. Però io ho una cosa che mi sentivo di fare, l'ho fatto con il cuore, non avrei fatto un'altra cosa. Io tengo tanto a lui, lui tiene tanto a me. Io ci sono per lui, lui c'è per me. E quindi mi dispiace per gli altri, ecco. Se sono tristi, ma noi siamo così. E quindi per me ho fatto una cosa che mi sentivo di fare dal mio cuore, insomma. Ma com'è nata la storia con Flavio? Cioè come ti sei innamorata? Come ti ha corteggiato? Ma guarda, è stata una cosa stranissima. Io non ero mai andata nei suoi locali. Non ci credo. Te lo giuro. Mai, mai ti è capitato. Io non ero mai andata, non avevo mai messo piede al biglione. Mai, sai, mai. Una cosa stranissima. Io all'epoca stavo lavorando qui a Milano, dovevo fare una cosa per la Rai. Quindi finisco di fare delle interviste in tardo pomeriggio e la ragazza che mi intervistava, la giornalista dell'epoca, dice guarda ti va di bere una cosa? Dico va bene, però rimaniamo nel mio albergo. Insomma ci siamo fatte compagnie. Abbiamo cominciato a scherzare e a raccontarci un po' di cose. Come sto facendo un po' con te dopo il lavoro magari. Lei riceve una telefonata e mi chiede se poteva accompagnarla perché una sua amica doveva darle una roba. Vado in questo posto e l'incontro, erano forse le otto di sera, sai, una specie di aperitivo. Incontro un RMD ragazze, vedo tante girls molto belle e poi in mezzo, un po' brizzolato, c'era Flavio che io non conoscevo. Devo dire che non mi era particolarmente simpatico perché non lo conoscevo, non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle. Però sai un po' le modelle, i rubinetti d'oro, lo champagne. Avevo un'immagine un po' forte, quindi un po' lontano dai miei standard. Lui, furbino, si alza, ti giuro, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora me lo ricordo. Era pieno di colori, aveva la giacca marrone, il pantalone giallo, la maglia. Era tutto un mix di colori, io glielo dico sempre. E comincio a parlare e scopro che comunque è una persona interessante, ovviamente molto intelligente e simpatica. E basta, finisce così, arrivederci, arrivederci e mi dice guarda ti posso, ti do uno strappo se vuoi in hotel. Eravamo nello stesso hotel ma non lo sapevamo. No, vedi il destino a volte. Il destino, ha voluto questa cosa. Mi chiede di bere una cosa. Io ordino una camomilla perché sono a Stemia, non bevo nulla. Lui già si stranisce. Mi chiede il numero di telefono. E finisce così la serata. Vado via e in ascensore mi scrive questo messaggio. Sei di più, sei speciale, non cambiare mai. Te lo ricordi ancora adesso così bene? Sì, sì. E dico vabbè, io dico grazie. Finisce così. Iniziamo a sentirci, a messaggiarci. Mi ha chiesto di incontrarlo due o tre volte. Io non potevo perché ero via. Ci siamo rivisti a Milano, segretamente in lui. Abbiamo fatto una cena a tetto a tetto dove anche era lì non è successo nulla. Poi da lì ci siamo fidanzati, non ci siamo più lasciati. Incredibile. Questa è la mia storia. Bello. È iniziato così. Bello. È l'amore della tua vita nel senso rappresenta… Però è stata… Sì, guarda, vent'anni insieme. Però è stato un amore, non so come spiegarti, che è nato mano a mano. Non è che… Non c'è stato questo… Colpo di fulmine. Hai capito? Ero molto razionale all'inizio perché comunque mi spaventava. Ero un uomo più grande, lo conoscevano tutti. Un manager famosissimo. Poi eri già famosa, lavoravi gente. Io già lavoravo, ero già famosa, già lavoravo in Rai. Però lui ovviamente era molto più famoso di me. Poi c'era la differenza di età. La prima foto cuscina nostra, lui era davanti, io dietro. Non eravamo mano nella mano, non l'avevamo ancora ufficializzato. E la mia famiglia mi dice, ma come mai questa foto con Flavio e Brieto? Ho detto, no mamma, siamo solamente amici. Ah, tua mamma te l'ha detto. All'inizio. Poi invece, quando l'hanno conosciuto, lui si fa voler bene, capito? E lui è un po' burbero, un po' guffetto, però poi in realtà è una persona molto guffetta. Io lo prendo in giro massacro. In realtà è una persona molto… Mari gelosa? Cioè appunto perché l'avevi conosciuta in quella situazione. Ma io avevo conosciuto Naomi, avevo conosciuto le sue ex quasi da subito. Quasi da subito perché noi ci fidanzammo a novembre. A dicembre mi invitò in Kenya. Io dissi, guarda, vengo da te dopo Natale, perché devo fare dopo le feste, perché devo fare… Per me la famiglia è sacra, noi siamo del sud e tu lo sai. Certo. Io sono anche mezza siciliana come te. Ah sì? Sì, perché la mia mamma era siciliana, il papà calabrese. Quindi tu sai quanto per noi valori, quanto la famiglia è importante. Poi queste feste, ma sempre in generale, anche la domenica, no? Noi ci teniamo tantissimo a stare sempre insieme con la famiglia. Quindi quando andai da lui in Kenya c'erano Naomi, c'erano tutte. Quindi io conobi le sue ex tutte, ma in realtà non ero gelosa. Lui mi ha sempre stato molto attento a questo, capito? A non creare delle cose. Poi io, devo dirti la verità, Dile, ero talmente piccina che per me era tutto… Una figata, tutto nuovo anche. Era tutto nuovo, ero come Ale Giosta, non capivo in realtà. Avevo 23 anni che però era una 23enne un po' che arrivava dal sud, era un po' diversa dalle 23 anni di oggi. Io vedo mio figlio che è un adolescente che ha appena compiuto 14 anni, è molto più sveglio di me. Io alla sua età ero con la nonna, mi faceva il latte che hanno i biscotti, vivevo in Calabria. È tutto un altro mondo. Certo. Comprendevo, quindi mi sono lasciata trascinare da tutto questo che scoprivo, da questo mondo che scoprivo mano a mano, capito? Sì. In maniera molto naturale. Sì, mi immagino insomma quando entravate al billionaire, che entrava a Flavio, mi ricordo che si bloccava tutto il locale. Si bloccava tutto, si bloccava tutto. Era pazzesca questa cosa, sì, sì, era… ma dappertutto non abbiamo girato il mondo. All'epoca con la Formula 1, lui vinse comunque il campionato mandiale con Alonso. Ho vissuto delle cose molto belle, molto belle. Sì, bellissime, è vero. Sì. Ma e dopo eri gelosa? Cioè nel senso, questo aspetto della gelosia come l'avete gestito anche lui nei tuoi confronti, no? Sì, no, lui è gelosissimo, diciamolo. Lui ancora è gelosa? È ancora geloso, diciamolo. Poi diranno, non è vero. Sì, lo sanno tutti i miei amici, lo sanno tutti. E le persone accanto a me lo sanno, dicono, non si rassegnerà mai. Ma la cosa che mi… Che carino però, dai. Sì, molto. Sì, molto. Io ero gelosa, soprattutto sai quando, in questi locali che poi arrivano queste belle ragazze, lo puntano tutte e tutte vanno, capito, addosso. E allora io ero tipo dietro, perché noi avevamo una postazione nostra, ah bastava che io lo guardassi così, no? Lui mi guardava, ha capito, mi sta guardando Eli? E quindi ti abbassava lo sguardo, ho capito? Ma raccontami una, io non ci credo che non ci sia un aneddoto che magari non hai neanche mai raccontato di te, lui, in un locale, di una ragazza che si avvicina di te, che in qualche modo è proprio da allontanare. No, c'è stata una volta una persona, non faccio nomi, che ho detto, ho chiesto che si allontanasse perché… Perché ci stava provando spudoratamente. Perché non si era comportata bene, tra l'altro io ero in attesa, in dolce attesa, ho detto guarda, secondo me quello che stai facendo lo trovo poco carino, per cortesia se ti puoi accomodare fuori. E l'hai fatta allontanare. Sì, quello è stato l'unico episodio un po' carino che mi è successo in tutti questi anni. Non hai fatto una mossa di casa? No, 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 per carità, però devo dire… Vedi che ritorna sempre e non fate incazzare Elisabetta? No, ma in realtà ho un rapporto bellissimo, poi con tante di loro sono diventata amica, quindi va bene, perché non serve, insomma, farsi il sangue amaro, bisogna sempre gestire le cose con intelligenza e rispetto, secondo me, lui ha avuto rispetto per me e io per lui, quindi questa è stata la base che ha fatto sì che tutto andasse bene, perché comunque a quei livelli, con tutto quel mondo, se non è così diventa un caos. Poi comunque lo seguivo tantissimo, eravamo sempre in giro, quindi anche il mio lavoro per un periodo ho dovuto scegliere cosa fare e cosa non fare, anche in tv, perché non potevo essere troppo impegnata. Ma vedi, questa cosa secondo me è interessante, cioè perché uno pensa tutto bello, tutto stupendo, feste, notorietà? No, ma non c'erano solo le feste, c'erano tante responsabilità, tanti problemi anche… Esatto, tante responsabilità, ma anche tante rinunce, sicuramente… Sì, adesso poi leggo i titoloni, se noi chiacchieriamo, la Gregorace ha rinunciato, no, poi sembra… ecco, lei si lamenta… no, eh, non sto dicendo questo. No, no, perché poi… sì, lo specifico, perché mi è capitato in passato. Beh, sicuramente ho rinunciato a diverse cose, ma ti dico che cosa? Che sono dovuta crescere in fretta, quindi una parte di… se vuoi di… non vorrei dire spensieratezza perché poi anche lì scrivono delle cose. Sicuramente sono diventata grande subito, perché comunque mi rapportavo con della gente più grande, con delle persone più grandi, con un mondo che era diverso da quello che frequentavo prima, sai, io lavoravo in Mediaset, in Rai, vivevo a Roma, lavoravo, uscivo con le amiche, avevo una bellissima vita, ma sicuramente più calma rispetto a quello che poi sono andata… ero sempre su un aereo, ho conosciuto tantissime persone e quindi tante cose, ho dovuto sì, anche rinunciare, perché poi sei comunque la moglie di Flavio Briatore e quindi… Devi mantenere anche un certo standard. Devi mantenere a volte sì. Standard. Anche se io ho sempre voluto lavorare, non ho mai rinunciato in questi anni… Avevi quanti anni? 23 anni. Ah, piccolissima. Poi mi sono sposata che ne avevo 28, quasi 28 e a 30 è nato Nathan, quindi io dal il 23 e 30 mi è cambiata praticamente la mia vita. Certo, cioè tu ero molto giovane. Mi ero molto giovane. Immediatamente, praticamente. E te lo sei ritagliato e sono spazio per cazzeggiare un po', nel senso, per rilassarti un po'. In realtà poi talmente ho avuto un'impostazione mentale che cazzeggio troppo poco, lo dico sempre, devo divertirmi un po' di più che poi la vita, guarda, è un attimo. Però sto sempre così impostata, due maroni, lavoro, sono molto organizzata io nella mia vita, è il lavoro, è il bambino, è le cose, quindi sono sempre di queste priorità. Sicuramente dopo ho fatto dei viaggi che mi sono piaciuti, ho preso un po' di tempo un po' più per me, per esplorare e vedere delle cose che non avevo viste, che non erano le solite cose, posti diversi, fatti in maniera diversa, un po' magari, non dico con lo zainetto in spalla, ma ho vissuto e ho fatto delle cose diverse, quello sì l'ho fatto. E diventare mamma per te com'è stato? Diventare mamma, vabbè, per me è stata la cosa più bella del mondo e lo desideravo tanto, volevo diventare mamma. Nathan, quando è arrivato, si chiama Nathan perché significa dono di Dio, anche se lì abbiamo litigato molto quel nome, con Flavio, perché mio figlio ha due nomi, si chiama Nathan Falco, lui voleva un nome che iniziasse per F. e ho detto, beh, c'è Flavio, Federico, Ferdinando, Filippo, no, voglio Falco, va bene. A me non piaceva e lui non piaceva Nathan, ho detto, ok, il giorno prima di entrare in ospedale, ho detto, qui c'è una lista di nomi, vogliamo cambiare il nome? Eh. Le scegliamo uno che piace a tutti e due? Eh. No, io voglio Falco. Ok, allora io lo chiamerò Nathan. E quindi lui lo chiama Falco? Ma la cosa strana è che tu sei una mia amica e lo devi chiamare Nathan, perché le mie amiche lo chiamano Nathan e gli amici di Flavio lo chiamano Falco, quindi ha due nomi. Non è vero questa cosa. Sì, dopo quattorni anni. Ci sono amiche qua che possono testimoniare che è vero che lo chiamano in modi diversi. Quindi lui sa di avere due nomi. E quindi lui comunque, ovviamente, sa che… Io lo chiamo anche a casa, se vuoi avere due bambini. Nathan. A me questo siamo da… E Flavio lo chiama Falco. Telefono azzurro. Io lo chiamo Nathan. Nathan, dove sei? Falco, vieni qua. No, non ci credo. È stupido. Ma non abbiamo due figli? È sempre uno. Ma non c'è un nomignolo che lo può, diciamo, accumunare? No, non abbiamo un nomignolo. Noi lo chiamiamo il nostro topo, però vabbè. Secondo me è nata al sinorgogno. È felicissimo. È nata di sentire il nostro topo. Però adesso è un gigante, guarda, è diventato grandissimo. Quando noi ci siamo sentite, questa la possiamo raccontare, ho chiamato a Ellie e le ho detto Ellie, come stai? No, guarda, non ti dico, si è fatto i capelli biondi. È stata arrabbiatissima. È lì arrabbiatissima. Sì, certo. Perché non ti aveva detto niente. No, allora, io dovevo registrare una cosa. Chiamo Nathan, dico, amore, guarda che mamma per tre ore, quattro ore sarà in questo studio di registrazione, devo registrare questo mamma, non mi fanno usare il telefono. Qualsiasi cosa, c'è papà, c'è la tata, mi raccomando. Altrimenti mi scrivi in emergenza. Leggo un messaggino, ma non l'ho aperto il messaggio vocale. Praticamente lui, che è un grandissimo furbino, ha chiamato il papà. Sapevo che io non potevo leggere il messaggio. Papà, papà, ti prego, mi fai fare il ciuffo biondo? Il papà dice sempre di sì. Ah, ok. E quindi si è fatto biondo. Io ho ascoltato il messaggio, ho terminato la registrazione e mi sono trovato un bambino biondo. Mamma, io è giocata. Adesso mi sono abituata. Ti piace? Non lo diciamo, sta anche benino. Ah, ti piace allora? Ti devi abituare. Il giorno prima del suo compleanno. Adesso dobbiamo fare una foto con questo ciuffo biondo, orrendo. Mamma, dai. Adesso invece ti sei quasi abituata. Che devi fare? No, infatti. Adesso poi la preadolescenza, vedrai, vedrai. No, infatti com'è la preadolescenza nei bambini del 2024? No, guarda, è nato un bambino, a parte è nato grande, te lo giuro. È nato grande mio figlio. Cioè, in che senso? È nato che era già ai 4 chili quando è nato e dico, allora era nelle cullette insieme agli altri bambini e il mio era già così. Lo devo prendere in braccio? Sai, era già grande, non riuscivo. Vabbè, ma è proprio avanti, ha viaggiato tantissimo, a 15 giorni di vita aveva già il passaporto, l'abbiamo portato ovunque sempre con noi. Primo aereo? Quanti mesi? Quanti giorni? No, aveva 20 giorni, un mese, subito, subito. E l'abbiamo portato sempre con noi ovunque e forse questo ha aiutato anche questa cosa qui. Lui è molto più sveglio, sembra più grande dell'età che ha. Si rapporta anche con gli altri in maniera diversa, devo dirti la verità. bravo a scuola, non deve essere il primo della classe, ma è bravo, io ci tengo tantissimo, parla tre lingue, ma da quando aveva sei anni. Anche tu le imparate le lingue? Io parlo inglese, non parlo francese, a Monaco parlano tutti italiani, vivo lì da 13 anni. E Nathan parla inglese? Nathan parla inglese, francese, italiano e adesso sta imparando lo spagnolo. Ah, bravo. Bravo. Però è un bambino che ha un bel carattere, insomma, è molto indipendente. Io alla sua età non ero così indipendente, io ho sempre bisogno della mamma, della nonna, della famiglia, a tutte le ore. Lui invece è molto indipendente. Ma a proposito degli studi, Flavio vorrebbe che lui non facesse l'università e iniziasse subito a lavorare, vorrebbe che entrasse nel mondo del business. Tu come la vedi questa cosa? Io dico che lui deve fare quello che sente, che penso che lo studio sia importante, che quindi se avrà voglia di studiare, di fare l'università, assolutamente la devi fare. Quindi ci scontriamo su ogni cosa. Ma secondo te lui che cosa vuole fare? Cioè tu lo vedi già che è una propensione verso il business? Cioè è un viatore, si vede questa cosa? Lo vedo già, lui fa già dei meeting, fa già il food testing già da tanti anni, conosce tutte le persone che lavorano per il papà in ogni posto, a Dubai, a Londra, Monaco, è molto sveglio. Lo vedo già predisposto, ti sono sincera. Cioè somiglia più a Flavio che a te o è un mix? Beh, no, ma quello è un mix, però vedo che comunque quello che fa il papà lui piace e quindi perché no potrebbe essere una cosa importante per lui e bella allo stesso tempo. Però io ho detto che dovrà scegliere lui, ognuno deve inseguire i propri sogni, no? Noi da ragazzina io volevo fare questo lavoro, chi voleva andare sulla luna, chi voleva fare il calciatore, ognuno ha i propri sogni che è giusto, che secondo me, insomma, bisogna coltivarli, poi nella vita ti svegli, magari decidi di cambiare, però secondo me devi provare, quindi io gli lascerò molta libertà da questo punto di vista, come hanno fatto i miei con me. Infatti mi piace proprio questo aspetto qua, perché tu sei una donna del sud Italia come me e quindi, cioè io e mio fratello, no? L'esempio mio fratello ha 50 anni quasi, mi riconosco, scherzo, meno o meno. Salutiamolo, lo conosco, Mirko. Lo conosci, mi riconosco, giovanissimo, non è vero, però è ancora iper legato a mia mamma, cioè nel senso, sono proprio una roba in che per mia mamma è ancora un bambino, tu anche se così e pensi che Nathan potrà essere così? Quello no, quello no perché pochi lo sa, adesso vedo, questa è una fase che mi diverte molto, no? Perché è l'età delle ragazzine dove ha scoperto, insomma, questa fase qui e mi chiede consigli, a volte mi faccio raccontare delle cose, dei giorni me li racconta, dei giorni no, giustamente, e cerco di avere quel rapporto mamma-amica, perché io lo avevo molto con la mia mamma, ero molto complice con lei ed io avevo un rapporto bellissimo con i miei genitori, quindi a me piacerebbe trasmettere la stessa cosa. Come sarò quando lui sarà più grande? Questo non te lo so dire, ti posso dire che spero, spero che sarà sempre legato comunque a me, quello me lo auguro, capito? Quindi tu ti rivedi in tua mamma, in cose che fai con Nathan? Sì, sì, in tante cose mi rivedo esattamente come lei, assolutamente sì. Sì, anche io, mia mamma, sono super legata con lei. Quante volte vi sentite al giorno? Io la sentivo tantissime volte. Cioè è proprio una roba incredibile, ma pure troppo nel senso, anche per cose totalmente inutili che non servono a niente, però... Però è bello avere questo rapporto, mi piaceva tanto, e anche col papà. No, mi sta poi aiutando tantissimo con mia figlia, con Aria, cioè è proprio fondamentale anche per me come aiuto, ma anche per capire come si fa, perché ti mettono in braccio con la bimba. Perché non te lo insegna nessuno, non abbiamo manuale di istruzioni. All'inizio sei preoccupata, terrorizzata, no? La prima febbre, oddio alla febbre, ho chiamato chiunque, me lo ricordo. Ci sono delle cose che poi ovviamente non sai, impari mano a mano, però poi hai l'istinto materno e sei bravissimo. No, cioè nel senso sì, cerco di copiare in realtà, cerco di fare a modo mio prendendo spunto da mia mamma. Ma per te tu sei riuscita a superare questa perdita qui? No, ma in realtà non la superi mai, sai, Dile, non la superi mai. Ti abitui ad una mancanza enorme, ma non la superi. Mi chiedo sempre chissà quante cose avrei fatto, no? E poi guarda, la mia vita è cambiata dopo, direi, ma sono cambiata io, io come persona, non sei più la stessa, no? Non dico che muore una parte di te, però è così, ci sono delle cose che vai ad affrontare da sola, sai che non c'è più lei, ci sono delle cose che cambiano nella tua vita, non hai più il tuo punto di riferimento, poi quello più sincero, quello bello, quello vero. Sai che le cose che mi diceva lei, perché è una cosa che pensava dal profondo del cuore ed era per il mio bene, e poi mi manca la sua presenza, le nostre gacchierate, come ti dicevo, io la sentivo tantissime volte al giorno, lei come me amava molti dolci, quindi di notte a mangiare il cioccolato, a chiacchierare, a giocare nomi così città, cioè io avevo un rapporto veramente bello che mi manca qualsiasi cosa di lei, quindi non ti abitui mai, mi manca ogni giorno, poi nella vita cerchi sempre di fare delle cose e ti chiedi com'è, però è una mancanza enorme, se sono sincera, poi la mia mamma era molto giovane, che era giovanissima, aveva 38 anni la prima volta che si è ammalata, quindi abbiamo fatto un percorso con mia sorella molto difficile, poi a 50 anni è andata via, quindi l'ho persa molto giovane, ha vissuto solo il primo anno di Nathan e poi non ha conosciuto i miei nipotini, per esempio. E Nathan l'ha vissuto, diciamo, poco. Poco. Lui ti chiede qualcosa della nonna? Sì, ma io glielo ricordo sempre, abbiamo le foto, gli racconto che lo teneva sempre in braccio, insomma quando è nato eravamo tutti lì per lui, insomma, io parlo molto della mia mamma, a lui e i miei nipoti. I miei nipoti che non l'hanno neanche conosciuta mi fanno mille domande, molto più di Nathan. Sì. Ma e lei come l'ha vissuta invece questa tua voglia, diciamo, dalla Calabria di andare a lavorare a Milano, di fare il mondo di credito, cioè di costruire una carriera così? Io ero, da quando avevo 14-15 anni, scrivevo di nascosto questi concorsi di bellezza. Davvero? Non lo dicevo a lei, finché un giorno mi chiama, si chiamava l'Elite, un'agenzia di modelle famosissima. Mia madre mi dice, cos'è questa roba? Ha detto, dai mamma accompagnami, io voglio fare questo lavoro. E lei mi disse, guarda, io proviamo, te lo faccio fare, se va bene, un periodo, bene, se no comunque torni a studiare, torni a fare. I miei genitori volevano che io diventassi una dottoressa, non so perché. E tu volevi fare la dottoressa? Io non volevo fare la dottoressa, però sono predisposta, perché quando ci sono operazioni e cose varie non mi impressiono di nulla, anzi sono anche in sala operatoria. Però io volevo fare questo lavoro e quindi sono stata da a questo punto di vista a Testona, ho iniziato con i primi concorsi, con le prime cose, poi da lì ho iniziato tutto il percorso bello. E ti è stata sempre vicina, immagino? Sì, sì, primo periodo mi è stata molto vicina, perché poi io avevo bisogno di lei, ho detto mamma dammi una mano tu, ma in generale mi sentivo sola, non capivo nulla, quindi lei è stata molto carina, sia lei che mio papà, devo dirti la verità. Anche tuo papà? Sì, sì, sono stata letta a Miss Calabria, quindi all'epoca si andava in giro nelle varie località, Miss Italia. Io ho fatto Miss Italia, lì ho vinto il sorriso più bello d'Italia e quindi dovevo presentare questi eventi e loro mi accompagnavano, sono stati molto carini. Che carini, sì, infatti. Una vita fa. Una vita fa. Miss Sorriso più bello. Non diciamo l'età, per carità, eh. Sennò fa di calcoli. Cioè, se ci sentono oggi Miss Sorriso più bello d'Italia, mi dico, ma ste boomer, ma che stanno dicendo? Ma che stanno dicendo? Che stai sta roba? E tu mamma, immagino, ti sia stata vicina anche in un momento molto importante nella tua vita che è stato il tuo matrimonio. Il matrimonio. Ti ha aiutato? Ma, guarda, il mio matrimonio è stato, ti giuro, è stato molto mediatico. Io sentivo il peso di questa cosa, non puoi immaginare come. Perché all'epoca non c'era ancora Instagram. Prendiamo del 2008, quindi c'era, non so, io ero circondata da 20-30 paparazzi sotto casa every day. Che già, diciamo, si è abbastanza stressata prima del matrimonio. Sì, già li ho sempre, però pensa quando è uscita la notizia che comunque ci saremmo sposati. Era il matrimonio dell'anno, l'epoca. È stato il matrimonio dell'anno. Lo scappolo d'oro. E allora è per questo che tu dovrai subire questo nuovo gioco di mamma dilettante che si chiama Sì o No. No, ovvero dovrai rispondere alle domande. Guarda, proprio accanto a te c'è una paletta modernissima da vigilo urbano. Sì. Vai vicino a tutto. Con anche il logo, fatta apposta per noi, con il verde per il sì e con il rosso per il no. Perché, insomma, le vite, le coppie di matrimoni che durano per tanto tempo, in generale, proprio le relazioni di coppia, si formano su questo dilemma binario che è sì o no. Ecco. E allora, per capire se hai capito, facciamo una prova. Hai appena condotto Made in Italy per la RAI? Sì. Perfetto. Isabetta Gregoraccia ha capito. Me lo ricordo ancora, sì. Ha capito il gioco. Ok. Prima domanda. Vai. Giorno del matrimonio. La sposa può arrivare in chiesa in ritardo di un'ora? Un'ora no. Il mio ritardo è stato di 40 minuti. Quindi? Io dico sì. Quindi dici sì. Poi di più no perché rompi le scatole a tutti, posso dirlo. A tutta la gente che aspetta non è carino. Tu ti sei presentata in ritardo di quanto? 35-40 minuti. Sono al limite. No, no, 50 no. 35? 35 va bene. 50 diventano un po' troppi, dico no. Ah, perché mi hanno detto che hai fatto aspettare Berlusconi, Lippi, Capello, Galliani, Fernando Alonso, Simona Ventura, Asnaro. Giusto tre ospiti. Giusto tre ospiti. Ma perché mi ha fatto l'entrata e ti devo fare il grande Silvio. Ha detto, ma mi ruba la scena, devo aspettare un attimo. E io ero con Gianna Lisi, che all'epoca mi portava lui in chiesa, quindi un ex pilota di Formula 1, e noi facevamo tutti i giri a ridere. Perché era arrivato Silvio Berlusconi. Era arrivato Silvio prima, sì. E quindi ho detto, non posso entrare quando entra Silvio, scusate, sono la sposa. Allora, 10 minuti in più te li sei presi, dai. Sì, ok. Però non più di 30, totale. Non più di 30. Abito? Sì. È gestibile un velo lungo più di 5 metri? Sì, perché il mio era più lungo. Il mio era di 9. 9 metri? Mamma mia, ma come hai fatto? All'epoca me lo feci a mano, cavalli. Che meraviglia. Non so quante ore di lavoro, era un abito bellissimo. Ma che cosa hai provato in quel momento? Cioè, quando sei praticamente uscita dalla macchina e hanno messo tutto il vestito lì? No, ma non capivo nulla, non capivo nulla quel giorno, ti giuro. Poi c'era talmente tanta di quella gente che ci aspettava, i curiosi fuori. Pensa che la mia copertina del mio matrimonio andò in tutto il mondo contemporaneamente. Usci qui in Italia, su Chi, su Bunte, su Ola, su Lò, ovunque. Quindi c'era molta pressione. Io ero così. Mi guardavo attorno e non capivo. Che cosa stava succedendo. Sì, è tutto più grande di me. Terza domanda. Festa. Della musica si occupa l'orchestrina matrimoniale del cugino del paese? No. O conviene scegliere qualche altro? Conviene scegliere qualche altro. Io ho avuto, parli del mio matrimonio in generale? Ho avuto diverse persone che hanno cantato. Vabbè, a me sono venuti in Duran Duran. Cioè, ragazzi, ti prego di venire anche al mio matrimonio. Poi gli facci una brutta figura con Simon Le Bon e io. Forse la posso raccontare. Non la raccontai mai. Perché eravamo una volta da Anna Belsk, un noto club a Londra. Stavamo ballando in discoteca, io e lui così insieme. Eravamo tutti a cena con un gruppo di persone, con Flamin, proprio di gente. A un certo punto arriva questa canzone e dico, beh, questa canzone non mi piace. Mi ho da studiare la sua canzone. No, ma veramente, solo io posso fare queste figuracce. Quindi avevi Duran Duran. Quindi avevi Duran Duran durante il matrimonio. Una cosetta. Cioè, è stata una cosa incredibile questo matrimonio. E Jeff Latham che mi ha gestito i fiori, che avevo dei fiori pazzeschi. Ma quindi hai un ricordo stupendo di questo giorno. O lo hai vissuto con un po' di ansia da prestazione, di stress. L'ansia, secondo te, non l'avevo. Madonna, non lo so come hai fatto. Gli occhi puntati di tutto il mondo. Ho detto, oddio, qui… Però è stato bellissimo. Come vivere un sogno. Non so. Come lo sognavo da bambina. Non so spiegarti questa torta altissima. I fuochi d'artificio. La felicità. Gli amici più intimi. Poi durante il matrimonio. Quindi è un suggerimento che ti posso dare, che è molto carino per il tuo. C'erano comunque i video delle interviste fatte agli amici poco prima, montati molto simpatici, dove racconti i difetti della sposa o dello sposo, degli aneddoti divertenti. Quindi è simpaticissimo perché tu mentre pranzi o ceni non ti annoi, vedi questi video super carini. Ah, li hanno proiettati durante il matrimonio. Sì, è stato super simpatico. Quindi sono riusciti a fare tutto praticamente quasi live. Ah, questa è carina come chicca. Questa è carina. Un'altra chicca che mi puoi consigliare, carina? È un'altra chicca che ti posso consigliare. Allora, questa è molto carina. E ti posso far fare, cioè secondo me ti fai delle cose personalizzate che un po' vi riguardano, da far trovare gli ospiti la notte prima quando arrivo in hotel. Ah, ok. Quindi è una cosa molto carina. E poi cos'altro? Abiti quanti ne hai cambiati? Tre. Tre? Avevo la notte prima un abito. Poi il giorno che mi sono sposata, vabbè, l'abito da sposa. E poi dopo, per la serata, avevo un abito che ricordava l'abito da sposa, però per la serata. Quindi un giorno... Tre abiti bellissimi. Bello. Sì. Adesso è arrivato il momento che aspettavi da tanto, e cioè le domande scomode. Ma dobbiamo fare queste domande scomode? Devo lasciare questo, perché se no mi cazziano, perché prima mi hai detto non tenere tutto in mano. Ok, brava. Adesso invece c'è la bolla. Ma mi devo preoccupare? Vediamo. Non so esattamente, ma non credo. Non avevo mai parlato così tanto del mio matrimonio, neanche quando mi sono sposata. No, così per dire. Sì. Ma no, perché io mi devo... Sai cos'è? Che io mi devo sposare, quindi sono un po' in ansia. Poi tra l'altro ti sposi il mio sesso mese. Esatto. Perché anche io mi sono sposata a giugno. Io ero terrorizzata per il tempo, perché lì mi lasciava di piovere, invece... Bello. Meno male, no? Io spero che sia tutto ok. Cosa sono queste domande? Aprine una a caso. Tu pesca. Stampolla. Non guardo. Perché poi dico, non guardare. Non guardo. Arriva un pacco destinato a Nathan, contenente un kit di cento preservativi. Cosa gli dici? Bravo amore, usali. Mi raccomando, non tenerli solo in borsa. Non voglio diventare nonna, è troppo presto. È quello che gli dico adesso tutti i giorni. Parlate di queste cose? Certo, io parlo anche di sesso con mio figlio. Di sesso, di tutto. Ti fa raccontare le cose. Mi racconta proprio tutto, però parliamo dell'importanza per le cose. Lo metto in guardia. E lui è... Usali. Ok. Poi? Un'attima domanda. E lui è sveglia più di noi di letto. No, ma infatti... Nathan si presenta con una fidanzata di 30 anni più grande. Questa è difficile, ragazzi. Questa è tosta. Eh, sì, dai. Che poi è la stessa cosa che è capitata a me e a mia madre. Dipende quando si presenta, a che età. Ok. Dipende... Oggi direi un attimino presto. Magari quando sarà più grande potrebbe capitare. Non ci pensiamo. Ci pensiamo più avanti. Ti chiamo. Nathan decide di intraprendere un viaggio zaino in spalla senza meta e durata. Lo supporti? Mi spaventa la durata. Nel senso che mi piacerebbe che tornasse a un certo punto. Però per tutto il resto, sì, certo. Secondo me sarà un viaggio molto interessante che è bello. Giusto, sì, lo supporto. Lo supporteresti su questo. Adesso lui sente questa cosa. Mi dice ciao mamma. Ciao bella. Guarda come mi diverto. Invece raccontami i social. Cioè come li avete gestiti. Perché mi ricordo che tu hai detto che non li avresti voluto dare subito. Instagram l'ha avuto da poco. Instagram l'ha avuto da poco. Ecco perché secondo me questa è una fase delicata. È delicata. Ma l'avevano tutti i suoi amici. Giustamente mi dice mamma io sono l'unica a non averlo. E in effetti non potevo continuare così. Ah i social lo controlliamo. Però devo dirti non è un ragazzo che posta tantissimo. Non li usa tanto. Non li usa tanto. Posta. Ma li usa più per sbicciare le ragazzine che per… Tu già l'hai sgamato quindi. Sì certo. Sì è sempre lì. Usa TikTok di più. Ogni tanto lo… Sì. Ogni tanto lo copro anche. Cioè? Magari ha un appuntamento doppio. Dico amore. Come doppio? Che magari piace una ragazzina però è indeciso. Vuole vedere neanche un'altra. E non si fanno queste cose. E lo copri? Lo copro. Mi ha raccontato questa cosa. Non so se si può dire. Beh poi magari la tagliamo se non mi ammazza. Per il suo compilano c'è una ragazzina che insomma è un po' innamoratina di Nata. E scrive a lui un messaggio bellissimo. Ma chilometrico. Sai che noi donne esageriamo sempre. Sì. Quasi tre pagine di messaggio che in effetti è un po' tanto. Lui risponde con… Grazie. No dai. Le dico sei una bestia non puoi. Lei l'ho bloccato. Ti sta bene Nata? Meriti di essere bloccato. Capisci? Davvero. Ma tu sei gelosa o no? Oh Lillo vieni. Lillo vieni. Vieni Lillo. Dai dove sei stato Lillo? Io sì sono gelosa ma è il giusto. Mi piace scoprire questa sua nuova fase. Mi piace tantissimo. Sì infatti è tutta una scoperta con i figli. Questa è la cosa più bella. Che è un viaggio proprio che inizia e poi… Ogni età è diversa. Ogni età è diversa. Ogni giorno è diverso. E vedrai. Sì. Vediamo prossima domandina scomoda. Che ne vedo ancora alcune. Allora una fidanzatina di Nathan Falco lo tradisce. E lo fa soffrire. Con quale mostra di karate la condisci? No. Vedi che inizia e finisce tutto un ritorno comunque. Non fate incazzare Elisabeth. Questo è il titolo della puntata. No nessuna mostra di karate però so che è una cosa che capiterà. È già mezza capitata. Mezza. Nel senso che a lui piaceva una ragazzina che poi l'ha fatto un po' soffrire. Non mangiava più. Mangiava pochissimo. Ho detto amore riprendiamoci. E niente fa parte della vita. Lo faranno crescere queste cose. Quindi nessuna mossa di karate ma è giusto che batti la testa. Ma sei intervenuta tu con lui? Cioè con lei? Con lui no? No. Solo con lui di supporto diciamo emotivo? No no. Sì di supporto. Ho detto mi raccomando amore stai su non è la fine del mondo. È solo l'inizio. Vabbè è giusto. È giusto. Allora visto che siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata salutaci con un mantra che per tutte le mamme, per tutti i papà può essere utile. Beh posso posso dirti che per quanto riguarda me la mia famiglia è stato il centro, il fulcro di tutto e quello che poi mi ha aiutato nella mia vita anche a non perdere insomma i binari e rimanere sempre con i piedi a terra di non far cazzate. Quindi quello che vorrei dire a tutti quanti è che quando ci sono i valori della famiglia tutto va meglio secondo me e quindi è quello che auguro a mio figlio di rimanere sempre con i piedi per terra, di volare sempre più in alto però ricordandosi sempre quello che è il fulcro della famiglia che penso che sia la cosa più importante. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Bravissima davvero grazie. È stata stupenda. Grazie a tutti.